Amici di moto.it benvenuti in questo nuovo video padiglione 22 stand suzuki e guardate un po' gsx8r l'evoluzione la versione un po' più sportiva più vocata anche però al viaggio vedete qui dalle borse della gsx8s cambia in tanti particolari vediamo subito da questo frontale abbiamo più protezione aerodinamica appunto per il suo nome per la sua vocazione abbiamo anche una dotazione tecnica assolutamente completa però la piattaforma comunque rimane simile bicilindrico in linea molto corposo nella 8s vedremo poi se nella guida cambierà un po' in questa gsx8r qui l'abbiamo anche un po' accessoriata abbiamo questi tamponi paratelaio borse e altri vari optional però devo dire nel complesso una moto molto molto completa anche la 8s era completa nella dotazione elettronica traction control quick shifter e anche questa ci aspettiamo una dotazione assolutamente interessante una moto con una posizione un po' diversa lo vediamo subito dal manubrio posizionato un po' più in alto quindi ci aspettiamo un'impostazione leggermente diversa ma è una moto che si affaccia comunque a un pubblico molto vasto dato che l'altezza della sella da terra non è particolarmente alta quindi è una moto accessibile comunque a tante persone vediamo un cupolino anche qui lo scopriremo solo una volta che la proveremo si proteggerà dall'area e l'inimitabile stile Suzuki con questo bellissimo colore blu disponibile anche essa in due colorazioni blu e nera e niente che ne dite vi piace ragazzi noi ci vediamo nel prossimo video grazie